Reoccupati per il loro futuro occupazionale e per una situazione che assieme ai dipendenti potrebbe ridurre anche la sicurezza. Si sono dati appuntamento questa mattina davanti a Palazzo di Città, sette lavoratori della ditta che a Trani si occupa della vigilanza armata negli stabilimenti dell'AMIU, come la discarica e gli uffici di via Barletta. L'azienda municipalizzata ha manifestato infatti nei giorni scorsi, seppur ancora senza una comunicazione ufficiale, l'intenzione di voler rinunciare al servizio a partire dal prossimo 17 ottobre. Una decisione dettata dalla necessità di ottimizzare mansioni e risorse a livello comunale, ad esempio con l'installazione di impianti di videosorveglianza, ma che dal punto di vista delle guardie giurate può mettere seriamente a rischio i loro posti di lavoro. Si è creata una situazione di disagio nei nostri siamo confronti, in quanto abbiamo appreso che dall'amministratore unico dell'azienda municipalizzata, che il 17 di questo mese automaticamente cessa il servizio di vigilanza. Dopo 15 anni che prestiamo quotidianamente servizio in questi siti, con tutte le precarietà che abbiamo da questi anni, con i rischi annessi e connessi che abbiamo sempre optato in relazione a quanto detto. E quindi adesso ci troviamo di fronte a questa situazione drammatica per quello che si riesce a prendere 700-800 euro al mese e quindi capisce perfettamente la situazione e il momento. Quindi ci affidiamo alla sensibilità del primo cittadino, cui prende insomma delle conclusioni bonarie affinché questa situazione possa risolversi nel miglior modo possibile. Il punto della situazione, nelle parole del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. È evidente che c'è la necessità di dover ottimizzare i costi di un'azienda come appunto quella dell'Amino, ma non certo a discapito della sicurezza, al contrario. Innanzitutto il problema della discarica, non è più una discarica aperta, è una discarica chiusa, peraltro dove sono in corso lavori, per cui è evidente che c'è sempre un problema di sorveglianza ma di diversa natura, anche perché chiaramente ricordo a tutti che nel momento in cui ci saranno questi lavori e sono in corso, è evidente che lì c'è un cantiere di lavoro e la custodia aspetta chiaramente all'impresa che svolge i lavori. Quindi per quanto riguarda invece la sorveglianza dell'azienda, della società, anche lì è chiaro che cambiano il sistema. Si sta pensando alla videosorveglianza, peraltro con un servizio anche poi di intervento con accesso remoto, quindi assolutamente un altro modo, sicuramente più economico ma assolutamente non meno sicuro. Nonostante tutto non è che ci facciamo carico assolutamente anche delle esigenze dei lavoratori, tant'è vero che ho appena dato indirizzo all'azienda nella nuova gara che stanno facendo, che per un servizio diverso, cioè un servizio di ronda rispetto invece al servizio fatto prima, di inserire la clausola, non necessariamente la clausola sociale, per cercare di tutelare il posto di lavoro ai dipendenti che oggi svolgono un altro tipo di servizio. Grazie.